Compagni, colleghi, conviventi, c'è del caffè? Si è sempre l'ultimo a svegliarsi. Basta in brodo, chi ne vuole? Spazio. Ti lascio, è il concetto che conta. Ti lascio, amen. La meccanica non mi interessa. 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 E che cazzo, dai, non succhiare. Ma porca. Se comunque fai schi... Ma scusa, Ringo, non ti sei accorto che sta male? No, no, ho visto. Rico!